Deve essere un treno di rifornimenti. Viene a buttarsi in trappola. È la prima volta che vedo un treno di rifornimenti senza la scotta armata. Non hanno ragione di disfidare, si trovano nel loro territorio. Dove ha trovato il colonnello Maiz? Nell'ufficio telegrafico. Nell'ufficio telegrafico? Sì, signor. Allora, Ticcol, sai cosa devi fare. Portate quei cavalli a riparo. Via, via! Via, via! Via, via! Da questa parte! Di qui, di qui! Bisogna l'ora il cuore sul carro! Allora! Senti! Vatta con quelle male di tutti! Vatta con quelle male di tutti! Vatta con quella male di tutti! Orta! 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 Senti, tu! Fu! Orta! Beomma! Allora! Metsci! E early morte거든요! Non dovete farvi vedere. Voi, andate là dentro. Festo, festo! Una pistola? No, non mi occorre. Vieni. I luoghi sono ai loro posti. Bene. Vieni. 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 Voto! Non volevo questo. Ho cercato di evitarlo. Per questo ho scelto la medicina. Vieni. Grazie a tutti. Guarda quell'idiotto! Gianni! Gianni Maes! Che sta nel fuoco? Che sta nel fuoco? Grazie a tutti.